Come si chiamano gli altri cinque sensi del mondo invisibile? Questa è una domanda di Graziana. Si chiamano Pluto perché ho Fiuto? Come vuoi Graziana, puoi dargli tutti i nomi che desideri. Il senso è percepirne l'utilità. Poi il nome, non so magari se gli hanno dato dei nomi, chiaro, veggenza. Sì, gli hanno dato questi nomi qua, ma... E quindi? E quindi l'importante è utilizzarli, entrare nel cuore, non nella mente. Entrare nel cuore, non nella mente. Partecipare alle cerimonie di The Answer e sperimentare la bellezza dei sensi del mondo invisibile.